E' anche il momento giusto per provare tutte le situazioni dove possiamo lavorare meglio e quindi le difficoltà che possono nascere giorno dopo giorno ci aiuteranno senz'altro a migliorare. Quindi è chiaro che è stata un'altra amministrazione su una palla libera e quindi è una di quelle situazioni sulle quali stiamo insistendo. L'amministrazione è sicuramente quello che ci aspettavamo perché sono stati tre carichi di lavoro particolarmente importanti e quindi le fatiche si stanno accumulando ma è normale che sia così. Però io invece proprio per questo perché le gambe erano pesanti ho visto che stiamo diventando squadra. Stiamo diventando squadra per equilibri, stiamo diventando squadra perché riconosciamo alcune situazioni che stiamo provando in allenamento e quindi secondo me la crescita della squadra c'è. Perché le gambe erano pesanti ma la testa era veloce anche se c'è stato qualche errore di precisione però la testa e i meccanismi sono stati provati e mi sembra che ci sia una certa compattezza di squadra che è una cosa molto importante che stiamo ricercando. È chiaro che le palle inattive a favore e contro sono situazioni che possono determinare i risultati finali delle partite che poi conteranno e quindi li teniamo in grandissima considerazione, li stiamo provando. È chiaro che quando poi certi schemi su palle inattive risultano efficaci significa che ci sono le qualità per poterle fare. Qui abbiamo sia tiratori giusti perché abbiamo dei tiratori sicuramente molto precisi e degli ottimi saltatori quindi sono situazioni che assolutamente dobbiamo portare avanti come d'altra parte adesso siamo stati pochissimo impegnati nelle palle inattive contro e invece sono situazioni che oltremodo dovranno essere molto organizzate, preparate e con molta attenzione perché ripeto quando conteranno veramente i tre punti le palle inattive possono risultare determinanti. Bene che arrivino presto qualche impegno sicuramente probante perché stiamo giocando delle partite solamente in fase di possesso palla chiaramente ma ci serve perché dobbiamo trovare i meccanismi, dobbiamo trovare le profondità, l'ampiezza quindi sicuramente ci sta servendo molto ed è bene però anche cominciare a trovare anche avversari che ci possano in pensieria in fase di non possesso palla per vedere appunto se la compattezza della squadra nella fase quando la palla c'è nell'avversario c'è se gli equilibri ci sono, se assolutamente c'è lo spirito di sacrificio, la voglia assoluta di tutta la squadra di difendere la nostra porta che è in alto di quelle situazioni che vogliamo migliorare.